La lega della Vigione Molise perché noi ci siamo costruiti con un comitato di sindaci qui ci sono sindaci del versante Molisano e sindaci del versante Abruzzese ci siamo visti per la prima volta a San Salvo che poi tra l'altro è il centro più grosso e poi lo sbocco naturale della Tremina sull'Adriatico sa benissimo che la Tremina è un'arteria importante di collegamento di rena-Adriatico e purtroppo ha anche una brutta nomea perché purtroppo capita